L'omicidio del 21enne di Cinisi Paolo La Rosa, ucciso nei pressi di una discoteca a Terrasini, fermo di un coetaneo per omicidio. La ricostruzione di quanto accaduto? A Terrasini, in provincia di Palermo, intorno alle ore 3 del mattino di lunedì 24 febbraio scorso, Paolo La Rosa, 21 anni, è stato ucciso a coltellate nei pressi della discoteca Millennium, già chiusa, in piazzetta a Titi Consiglio, alla culmine di una litte. Il giovane residente a Cinisi in via Aldo Morro è stato trasportato dai sanitari del 118 a Partinicco all'ospedale civico dove è morto e è stato colpito all'addome e al collo. Paolo La Rosa è il figlio del titolare di un ristorante-pizzeria a Cinisi. Ebbene, le coltellate sono state tre, alla gola e all'addome, e a scagliarle sarebbe stato Alberto Moulet, 21 anni, che poi è fuggito e si è nascosto con l'aiuto del cugino Filippo. Ecco la ricostruzione di quanto accaduto secondo le indagini della procura di Palermo e dei carabinieri. Alle ore 3.20 di lunedì scorso squilla il telefono dei carabinieri. Correte, un accoltellamento! Alle ore 3.55 in ambulanza e sul posto. Poco dopo Paolo La Rosa muore all'ospedale di Partinico. La sorella minore della vittima, Giuliana La Rosa, a 17 anni, racconta che il fratello Paolo ha litigato con il suo fidanzato, Filippo Moulet. Il litigio è iniziato dentro il locale e poi è proseguito fuori. Alberto Moulet avrebbe accoltellato Paolo La Rosa quando lui è stato a terra. Nelle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza si vedono ragazzi che partecipano alla rissa e altri che tentano di separare i contendenti. Poi Alberto Moulet estrae dalla tasca un grosso coltello e colpisce La Rosa con violenza. Il presunto assassino Alberto Moulet è riconosciuto dal cappello modello borsalino e dall'abito gessato che indossa. Infatti domenica sera è stata una serata di carnevale in discoteca. Infine i carabinieri ascoltano un audio che circola su WhatsApp con la voce di un altro testimone che ricostruisce quanto accaduto così. Arrivò sto Paolo La Rosa e andò ad acchiappare subito a Filippo. Gli va a dare quattro pugni in faccia a Filippo. Ha uscito quel coltello picciotti. Gli ha tagliato la giugolare a giro a giro. Due coltellate nella pancia. Alberto e Filippo Moulet sono stati ricercati e poi trovati dai carabinieri della compagnia di Carini in un casolare nelle campagne di Camporeale. Il comune dove abitano per diverse ore sono stati interrogati dal sostituto procuratore Daniele Sansone che ha poi firmato il provvedimento di fermo per omicidio solo per Alberto Moulet e il cugino Filippo è indagato solo per favoreggiamento. Poi successivamente Filippo Moulet è stato fermato nell'ambito di un'altra inchiesta per un attentato omicidio avvenuto il 7 settembre scorso a Cinisi sulla spiaggia di Magaggiari dove allo stesso modo una discussione animata degenerò in un accoltellamento. Un centinaio di persone innanzi alla caserma dei carabinieri di Cinisi si sono radunate per linciare i due cugini coinvolti nella lite che ha provocato la morte di Paolo La Rosa. Venza! 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 Venza!